Atata è una delle isole di Tonga devastata dalla potente eruzione vulcanica e dallo tsunami che hanno colpito lo stato della Polinesia. Un'eruzione 500 volte più potente della bomba di Roshima, secondo la NASA. I 70 abitanti dell'isola si sono salvati rifugiandosi nella chiesa mormone, tutti tranne uno, un falegname in pensione con disabilità motoria che è stato travolto dallo tsunami e ha nuotato per più di un giorno per salvarsi. Un miracolo che ci racconta lui stesso. La parte più terribile è stata quando le onde mi hanno trascinato in mare. Mentre combattevo con l'acqua mi sono venute in mente due cose, una la fede in Dio e l'altra la mia famiglia. Mi chiedevo cosa stessero pensando in quel momento. Grazie. A Datata non c'è più nulla, ma l'isola ci vuole tornare. È lì che sono seppelliti i suoi genitori e i suoi nonni. Nel frattempo, gli aiuti internazionali sono arrivati a Tonga, dove manca soprattutto l'acqua potabile. A Datata non c'è più nulla, ma l'isola ci vuole tornare. A Datata non c'è più nulla, ma l'isola ci vuole tornare. A Datata non c'è più nulla.